Musica Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Una frana si è verificata la scorsa notte ad Ischia, precisamente a Casamicciola, sull'ex strada statale 270. Nel tratto antistante l'eliporto sull'arteria di collegamento tra Casamicciola e Laccomeno, nessuna persona è stata coinvolta. La frana ha interessato una scarpata per un'altezza di 16 metri e per una larghezza di 50 metri. La strada resterà chiusa fino al termine delle operazioni e dei sopralluoghi. Ischia tagliata in due. Una frana si è abbattuta nel comune di Casamicciola a Ischia, lungo la ex strada statale 270, nei pressi dell'eliporto. Lo smottamento, avvenuto la scorsa notte, ha interessato l'arteria che collega Casamicciola all'Accomeno. Nessuno è rimasto ferito, al momento del crollo non c'erano auto di passaggio. La frana ha interessato una scarpata per un'altezza di 16 metri e per una lunghezza di 50 circa. A crollare con violenza è stato un terrapieno dall'altezza di 16 metri. La strada resterà comunque chiusa fino al termine delle operazioni di ripristino e dei sopralluoghi. Una valanga di terriccio e massi, quella che si è abbattuta sulla litoranea, tra Casamicciola-Terme e Laccomeno, causando proprio il blocco totale della circolazione in entrambi i sensi di marcia. Fino ad ora sono stati rimossi circa 170 metri cubi di materiale. I sindaci dei comuni di Casamicciola, Laccomeno, Forio ed Ischia hanno deciso la chiusura delle scuole. Ed il vento forte e il mare mosso hanno creato disagi anche ai collegamenti marittimi con l'isola di Capri, annullate la maggior parte delle corse veloci, ma il vento ha tenuto ferme in alcune ore in banchina anche le navi traghetto. Arresti per droga. Consegnavano dologa a domicilio ai professionisti residenti nella penisola sorrentina le quattro persone destinatari di altrettante ordinanze di custodia cautelare emesse dalla procura di torre annunziata ed eseguite dai carabinieri di piano di sorrento. A finire in manette due donne di 28 e 35 anni e due uomini di 22 e 35. Nelle rispettive case i militari hanno rinvenuto cocaina, crack e marijuana, per loro anche la misura del divieto di dimora nella penisola sorrentina. La donna di 35 anni, originaria di Marigliano, è stata anche arrestata in flagranza di reato per detenzioni ai fini di spaccio di 70 grammi di hashish e 7 di crack trovati nella sua casa durante la perquisizione. Mio nipote è pronto. Era questo il messaggio in codice usato dai quattro complici nelle telefonate intercettate dai carabinieri per segnalare il carico di droga pronto per essere consegnato. Un metodo studiato per eludere le forze dell'ordine. Al momento dell'arresto però del 38 anni i carabinieri hanno trovato in casa sua 3 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente. Le indagini ora proseguono per accertare l'eventuale coinvolgimento di altri complici. E' stato arrestato dai carabinieri il secondo responsabile della fuga durante un controllo a Casandrino nel corso del quale fu esploso un colpo di pistola contro l'auto dei militari. Domenico Chianese, 29 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato rintracciato dai carabinieri della compina di Giuliano a Trentola 200 in un'abitazione messagli a disposizione da un suo amico. In fuga da due mesi, dopo aver trascorso anche un periodo all'estero, Chianese utilizzava l'abitazione come punto di appoggio ma aveva le valigie già pronte per una nuova destinazione. Il proprietario dell'alloggio è stato denunciato per il favoreggiamento. Il 14 novembre scorso a Casandrino, lo ricordiamo, il pregiudicato che era a bordo di una moto in compagnia di un complice arrestato poco dopo non si fermò all'alta dei carabinieri. Ne nacque un inseguimento per le strade del paese. L'arma utilizzata da due fu recuperata dai militari in casa del nonno del complice di Chianese che fu arrestato. Ce l'ha con parte del mondo dell'informazione il procuratore regionale della Corte dei Conti della Campania, Michele Uricchio, prima indagato in un'inchiesta per concorso in abuso d'ufficio e ora destinatario di una sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Caso chiuso dal punto di vista giudiziario ma non dal punto di vista mediatico dato che il procuratore ha convocato la stampa nella sede della magistratura contabile di Napoli per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Il procuratore è stato prosciolto perché il fatto non sussiste. Punto. Tutto il resto sono fesserie che hanno girato su internet e sui giornali dopo un anno e hanno infangato sulla mente non solo la mia reputazione ma hanno anche gettato fango sulle istituzioni che rappresento io e su quelle che operavano. Spero veramente che questo non possa accadere più e che per i cittadini di questo Paese si possa finalmente parlare di giudizi in termini veramente di garanzie perché non dobbiamo mai dimenticare poi che la nostra Costituzione ci dice che il cittadino l'imputato è considerato non colpevole fino a sendenza definitiva. Chiarita la sua estremità ai fatti, Oricchio era stato indagato nell'ambito dell'inchiesta che lo scorso dicembre determinò l'arresto del giudice Mario Pagano in servizio a Reggio Calabria accusato di aver favorito amici imprenditori quando era in servizio al Tribunale Civile di Salerno. La banca di credito cooperativo è una banca con Napoli nel cuore come la definisce il presidente Amedeo Manzo solidarietà a servizio anche del Santo Buono. Presso la palestra di riabilitazione robotica dell'azienda ospedaliera Santo Buono Pausilipon la cerimonia di inaugurazione dell'Altergy, il macchinario indispensabile per la riabilitazione dei piccoli pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia ortopedica agli arti inferiori e per migliorare la mobilità, la forza e la sicurezza nei pazienti con malattie neurologiche restituendogli così la possibilità di camminare. L'acquisto di questo macchinario è stato possibile grazie ai soci e ai clienti della banca di credito cooperativo di Napoli che in mille hanno partecipato con entusiasmo al concerto di beneficenza Una Banca con Napoli nel cuore, il cui ricavato è stato devoluto a favore della fondazione Santo Buono Pausilipon Lus. Nella cappella dell'ospedale Santo Buono si è tenuto un momento anche di incontro e preghiera alla presenza di sua eminenza il cardinale Crescenzo Sepe, arcivescovo di Napoli. Qui in un contesto come questo, cioè che in una realtà eccellente come è Santo Buono, avere anche non solo dei grandi professionisti come ci sanno, poi avere un'animatrice come la dottoressa Minicucci e avere un cuore grande come quello del Presidente della BCC di Napoli che insieme si coordinano per rendere sempre più qualitativamente positiva la degenza di di questi bambini. Credo che è una testimonianza di quella solidarietà che caratterizza la stragrande maggioranza del popolo napoletano. L'azienda ospedaliera Santo Buono Pausilipon sottolinea dal canto suo il Presidente e la BCC Napoli Amedeo Manso rappresenta una vera eccellenza partenopea in campo pediatrico, riconosciuta a livello nazionale. Sì, è una straordinaria giornata di sole in un ospedale straordinario pieno di eccellenze nel quale doniamo questo macchinario Altergy a favore degli ultimi, di chi soffre, dei bambini napoletani grazie anche all'opera del Direttore Generale del Santo Buono, del Cardinale. La nostra banca è vicina alla città, ai piedi nella città e soprattutto al cuore a Napoli. La soddisfazione è anche nelle parole della dottoressa Anna Maria Minicucci, Direttore Generale dell'azienda ospedaliera Santo Buono Pausilipon. Dà una possibilità di riabilitazione in più, dà una possibilità di una riabilitazione con alta tecnologia robotica a bambini che in passato dovevano migrare tutti fuori regione. Oggi questa attrezzatura completa e integra già un'importante struttura di riabilitazione robotica che è una delle più avanzate in Italia e sicuramente una delle prime in un ospedale pubblico italiano. Nel giorno in cui emergono nuovi particolari inquietanti della bomba al locale di Gino Sorbillo alcuni imprenditori e commercianti si lasciano andare a commenti di cattivo gusto e a tratti quasi giustificano la camorra affermando che non esiste. A sottolinearlo è il consigliere Campano De Verdi, Francesco Emilio Borrelli, pubblicando su Facebook un nuovo video della bomba posta nei giorni scorsi all'esterno della notta pizzeria in via dei tribunali. Nonostante i proclami del ministro e all'interno, dice Borrelli, la prepotenza dei clan non sembra fiovolirsi. Ieri una nuova bomba carta che non esplosa da Fragora solo a causa, grazie alla pioggia che ha disinnescato l'ordigno. D'altronde le passeggiate, dice ancora Borrelli, i selfie, i sorrisi, le ironie su chi la pensa diversamente e i baci a mano non servono a sconfiggere la malavita che c'è e bisogna combattere. 700 studenti, circa la metà di quelli presenti nell'Istituto Elena di Savoia, presteranno il loro supporto alla mensa della comunità di Sant'Egidio, consegnando i pasti preparati durante l'attività didattica. E' il fulcro del protocollo firmato dalla scuola e dalla comunità e presentato agli studenti nel corso di un incontro moderato da Roberta Catapano, incentrato sulla cittadinanza attiva e solidale, l'impegno dei giovani per la rete interistituzionale. Ascoltiamo il preside dell'Elena di Savoia, Salvatore Laino. In questo noi coniugiamo la crescita dei ragazzi sotto l'aspetto culturale, sociale, con l'utilità per questi stessi ragazzi di sentirsi protagonisti nel sociale. Realizziamo la cosiddetta sussidiarietà orizzontale, mettendo insieme tutte le energie possibili in questo modo per la solidarietà dei poveri, di coloro che non hanno la possibilità, di coloro che non hanno i mezzi per il sostentamento. Per la comunità di Sant'Egidio, l'educatrice Giovanna Casiello. Noi vogliamo come comunità di Sant'Egidio trasmettere ai ragazzi il concetto che la cittadinanza attiva è qualcosa che si può vivere partendo da se stessi. Si deve iniziare a credere che il mondo possa cambiare partendo da se stessi, dal proprio cuore. La forza dei giovani è l'ascolto, l'ascolto del Vangelo e il riuscire a stare sempre pronti per l'altro. Presente la senatrice Valeria Valente, ex alunna dell'Elena di Savoia. Accordo scuole, famiglie, un'intera comunità, però insegnare ai nostri ragazzi a sentirsi parte della propria comunità e a dare il proprio contributo è sicuramente la scommessa oggi forse più importante che si può giocare tutti quanti insieme nella fase della crescita dei nostri ragazzi. È di due morti e un ferito il bilancio di uno scontro tra due auto avvenuto sulla Fondovalle Sclerone presse dello svincolo di Airola vicino a Benevento, probabilmente a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia. Nell'incidente stradale sono rimaste coinvolte a una vettura su cui viaggiavano un uomo e una da entrambi sessantenni residenti a Casoria, deceduti sul colpo e un'altra utilitaria guidata da una donna di Cervinara vicino a Vellino che rimaste ferita ed è ricoverata in ospedale. Per le due vittime a nulla sono valsi i soccorsi prontamente giunti del 118 dei Vigili del Fuoco sulla dinamica dell'incidente, indagano i carabinieri. Una maggiore tutela dei medici e del personale ospedaliero è quanto ha chiesto Bruno Zuccarelli, vice segretario nazionale a ANAO, al ministro dell'interno Matteo Salvini, facendo riferimento alle continue aggressioni in cui, in particolar modo a Napoli, sono spesso vittime gli operatori sanitari. L'intervento durante l'assemblea pubblica dei medici campani, tenutasi all'ospedale San Giovanni Bosco, che ha visto riunite numerose sigle sindacali a sostegno dei dipendenti del nosocomio napoletano e impegnati a risolvere alcune questioni come le carenze di strutture e di personale. Intervenuto Antonio De Falco, presidente del sindacato Cimo. Le eccellenze sono al San Giovanni Bosco, come dappertutto, indipendentemente da quelle che possono essere le carenze strutturali che non possono cadere sulle spalle di chi opera in queste strutture. Questo è importantissimo perché chi opera in queste strutture ci mette la faccia. Lo fa in ogni caso. Chi dovrebbe preoccuparsi di dare a questi professionisti il meglio della disponibilità e della locazione, qualche volta è stato, possiamo dire, un po' carente per usare un eufemismo. Ascoltiamo Vincenzo Bencivenga, segretario regionale a ANAO Assomet. L'insicurezza che si vive negli ospedali da parte degli operatori, l'incertezza della programmazione, l'incertezza dell'organizzazione, che non fa altro che far vivere in pieno burnout gli operatori sanitari che con grande sacrificio danno assistenza al meglio possibile nonostante carenze organizzative e strutturali. Il mini tour solidale di Monica Sarnelli organizzato in occasione dell'uscita del nuovo singolo Tu si meglio e me arriva al Circolo Posilli poi in una serata che raccoglie fondi per il progetto Scampia della comunità di Sant'Egidio. Il brano presentato insieme al video realizzato dal regista Fabrizio Acampora. Domenica 3 febbraio l'artista si esiberà poi al centro giovanile Santa Maria Rosa Nova creato a Sant'Antonio Abate da Don Salvatore Branca per combattere la povertà educativa dei giovani dell'agro nocerino. Sarnese. Continua il mini tour solidale di Monica Sarnelli organizzato in occasione dell'uscita del nuovo singolo Tu si meglio e me. Il brano sarà presentato insieme al video realizzato dal regista Fabrizio Acampora al Circolo Posilli Po di Napoli nella serata che raccoglierà fondi per il progetto Scampia della comunità di Sant'Egidio. Domenica 3 febbraio l'artista si esibirà poi al centro giovanile Santa Maria Rosa Nova creato a Sant'Antonio Abate da Don Salvatore Branca per combattere la povertà educativa dei giovani dell'agro nocerino sarnese. Il nuovo singolo della straordinaria interprete traccia con decisione un percorso orientato verso sonorità pop o melodiche attraverso la partituta di Salimonetti e Federico Spagnoli autori della musica e attraverso una meticolosa produzione artistica firmata come sempre nelle ultime produzioni di Monica Sarnelli da Gigi De Rienzo. Abbiamo cominciato sì con grande successo il 27 dicembre al carcere di Pozzoli femminile e prosegue questo tour solidale. C'è grande aspettativa perché quale migliore occasione? La mia canzone Tu si meglio e me scritta da Federico Spagnoli, Salimonetti e Bruno Lanza è un messaggio d'amore. Un messaggio d'amore che voglio abbia una finalità, uno scopo e con questo mini tour solidale avremo lo scopo che desideriamo e quello di aiutare i più deboli. Un messaggio d'amore dedicato a quelle persone che pur volendosi bene vivono un momento di incomprensione per cui un messaggio di positività alla vita e perché no tu sei meglio e me non mettiamoci sempre noi sul piedistallo si può anche incontrare chi è migliore di noi e imparare. La musica deve essere un veicolo per trasportare emozioni e fare soprattutto felice la gente per cui non c'è altro scopo. Ancora a servizio. Sabato 26 gennaio dalle 10 in piazza Dante per un corteo che si snoderà fino in piazza del plebiscito organizzato da associazioni, comitati e cittadini che chiedono più sicurezza e vivibilità per la città, la marea azzurra per Napoli. Ascoltiamo l'avvocato Gennaro Esposito del comitato vivibilità cittadina tra gli organizzatori dell'evento. Sì, abbiamo organizzato una manifestazione, siamo oltre 30 associazioni che hanno aderito la marea azzurra per Napoli, così l'abbiamo chiamata per dimostrare che i cittadini possono pretendere rispetto ai loro diritti, quindi dal diritto allo sport negato per gli impianti sportivi chiusi, ricordo il Collana, ricordo il Palastatera, ricordo il Palargine, pure sono stati chiusi, alla invivibilità connessi ai fenomeni di movida molesta nei vari quartieri della città come al Vomero, al Centro Storico, a Bagnoli, quindi una situazione molto diffusa alle buche per strada. È una manifestazione che riguarda il cittadino nel suo complesso per sollecitare innanzitutto i cittadini a iniziare a pretendere dalle istituzioni il rispetto dei propri diritti, così come accade nelle altre città europee. Bene, è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie come sempre per essere stati con noi, ci ritroviamo come di consueto alle prossime edizioni, intanto continuate a seguire i nostri programmi. Arrivederci. Grazie.